Eccoci Fabio, insieme per parlare di questo bel evento che c'è stato da Entertainment Machine a Roma, al quartiere Flaminio, dai Cherubini, mi è sembrata una bellissima manifestazione, sono stati bravi, adesso evito la piaggeria di rito, ma effettivamente il perfetto meccanismo di orologeria dei Cherubini insieme alla precisione quasi maniacale di Luca Natali, beh insomma hanno prodotto un gran bel risultato, che te ne pare? Ti dico, la cosa più lontana che possiamo dire è improvvisazione, perché quello che ho notato, devo dirti la verità, è che tutto era studiato, pianificato, organizzato, le persone, le prenotazioni, distribuzione, gli invii, gli attrezzatori, quindi tutto quanto perfetto, preciso, strutturato, quindi un bel applauso perché secondo me ha funzionato, ha funzionato, organizzazione intendo, l'evento e come dire, ha alzato un sacco di aspettative secondo me, perché se dietro c'è questa macchina operativa che funziona così bene, qualcosa dietro ci deve essere sicuramente, quindi l'aspettativa era molto alta, era molto alta, mi è piaciuto, dirti la verità mi è piaciuto, la squadra c'è. Dunque, e lì al di là della squadra c'era anche una bella struttura, perché c'erano queste sale, questa parte d'ingresso in cui c'è una prima parte espositiva, sia sulla vetrina che interna, poi c'era la parte del, diciamo vogliamo dire, dell'home cinema, chiamiamola sulla destra, con queste belle poltrone comode, e invece proprio entrando davanti a sé c'era questa sala audio dove era montato. Ti accoglieva alla sala audio, ti accoglieva alla sala audio, assolutamente sì, tu entri e vedi subito i pezzi da 90, siamo entrati subito col pezzo da 90 della sala audio, e poi di nascosto si sentivano i rumori della sala video, quindi sembrava quasi di stare in un piccolo evento proprio a livello, come dire, annuale di quelli che andiamo di solito a vedere annualmente, con persone, strumenti, attrezzature, suoni, veramente, veramente interessante, quindi, come dire. Beh, peraltro diciamo una cosa un po' unica per Roma, noi siamo abituati a belle cose, Roma è una città millenaria, ha visto di tutto nel fluire dei secoli, però questo evento ha avuto un sapore particolare, tanto che poi è stato partecipatissimo, si parla di svariate centinaia di persone, che tutto sommato per una struttura appena aperta, ok, i cherubini tutti hanno una grandissima tradizione, Paolo, Stefania, Federico, Elena, sono stati tutti bravi, tutti molto professionali, aiutati come sempre a Stefano Troiani, però forse non era solo quello, era come dici te, che l'insieme delle cose è stato mantenuto a livello elevatissimo. Oltre a questa struttura così bella, che ha ben funzionato, dei cherubini, oltre al fondamentale aiuto di Luca Natali, che ha una distribuzione con i migliori giocatori. Certo, se vai sul sito di Agionatari e ti guardi i brand che tratta, ti fa capire quanto, quando si sposta, si sposta bene, si sente che si sposta. E però diciamo una fama meritata, no? Perché quando le persone lavorano così, meritano di avere quello che hanno. Assolutamente. E diciamo, oltre a questo poi c'erano le tre star. Vogliamo parlare delle tre star, in sala video c'era Emidio Frattaroli, diciamo, forse il più grande conoscitore italiano di materiale video, di tutto ciò che riguarda la proiezione, tv, cinema, insomma, una star che conosciamo tutti, noi di AV Magazine. E poi c'era Marco Cicogna per la parte della musica classica e della grande orchestra, che ha fatto il suo show nello show con Dan D'Agostino. Come sempre, lasciami dire come sempre, chiunque lo segue, in tutte le città italiane, come dire. E infine Marco Benedetti, che per noi boomer, ma non troppo, noi intendo io, non te, ha fatto il suo meraviglioso valse dei destini, in un'edizione un pochino ristretta, ma che forse ha aiutato la concentrazione dei presenti, e ha reso molto bene l'idea di quanto sia importante questo componente, in un set anche stellare, qual era quello che avevamo davanti. Guarda, ti posso dire, io purtroppo, essendo ancora un po' agganciato a quella che è, come dire, la mia giovinezza, che se ne sta, purtroppo, andando, resto comunque fedelissimo al mondo livello, al mondo digitale, al mondo streaming. Io, purtroppo, non posso apprezzare il prodotto, ma non riesco a apprezzare comunque l'utilizzabilità, no, del giro dischi. Quindi, purtroppo, non ho partecipato. Però, chiunque è andato, è sciuto fuori con, no, con tanti punti di domanda sulla testa, tanta sorpresa, vuol dire che l'evento ha funzionato. Eh, va bene. Guarda, l'evento ha funzionato, ha funzionato anche molto bene, e devo dire che io, invece, sono un boomer un po' atipico, perché amo l'uno e l'altro versante, fino a 192 kHz, anche un pochino meno, già a 96 mi sembra che basti, no? Non posso non apprezzare le tonalità tipiche del vinile. E poi, un vinile tipicamente inserito in un set che ne trae il meglio, beh, insomma, c'è un po' da fare ascolti da brivido. Percepisco con le tue parole, che mi sa che ti prenderai di nuovo il giro dischi, e mi sa che sgombrerai il mobile e piazzerai di nuovo un bel giro dischi là sopra, eh, perché secondo me, come dire, sei rimasto folgorato. Non mi senti escludere, non mi senti escludere, lo vedremo, dai. Benissimo, benissimo. Direi ora, iniziamo a dare un'occhiata a quello che c'era in queste sale. Io partirei da una delle star, perché non si può dire che ce ne fosse solo una della sala audio, cioè l'MXV di Dandagostino. Lì ho avuto, devo dire, un piccolo brivido. Insomma, la macchina è bellissima tutta quanta in questo acciaio lucente, massiccio, con il rame, l'usa per i tubi di Ventura, il rame, attacca direttamente i transistor sul telaio, cioè delle robe bellissime. È un ingegnere, è un ingegnere, assolutamente. Beh, è l'ingegnere, devo dire, della comunicazione. È l'ingegnere, no, come dire, no, si vede tutto, si vede tutto da queste cose, da come pensa e come realizza, si vede tutto. Insomma, quella è una macchina, secondo me, davvero pazzesca, poi c'è questi moduli, un modulo fono, un modulo per aumentare la capacità d'ingresso con le questioni più digitali, più vicine al tuo mondo, per così dire. È veramente una macchina bellissima, dal suono inocuovocante, dal comportamento. Mi ha sedotto questa cosa, eh? Mi ha sedotto la modularità del prodotto, è veramente... È pensare anche un po' avanti, no? È pensare un po' al discorso di magari poi servirà un altro componente, magari poi serve la connettività, il wireless, quindi, come dire, la modularità funziona sempre e mi ha sedotto, devo dire, ho apprezzato. Beh, lui ha voluto mettere in una macchina un perfetto pre e un perfetto finale per dire, non avete bisogno di altro, comprate questa, con l'MXV avete tutto quello di cui potete avere bisogno. Hai detto una grande verità. E poi, naturalmente, non c'era solo l'MXV, perché avevamo un altro paio di cose straordinarie, tralascio, il cablaggio, la multiciabatta, quelle sono cose che si possono guardare anche in articolo. C'era questo fantastico DCS Rossini, beh, una macchina senza compromessi, che dovunque ho sentito suonare, garantiva delle prestazioni da brivido. Anche in termini di scena, di profondità, di resa della scena originale di quello che stavamo ascoltando, che poi è il compito che dovrebbero avere queste macchine, più che di interpretare a modo loro in maniera uguale tutto quello che riproducono, dovrebbero riprodurre bene quello che viene registrato digitalmente o in maniera analogica. E poi, infine, le Magico, queste Magico A5, molto belle, in livrea chiara, argentata, perché non parliamo di sala video, dove invece erano nere, e dal suono fantastico. Beh, Dan D'Agostino, diciamo, per citare le sue parole, perché, insomma, dicono che alcuni di questi progettisti siano un guru, ma lui lo è davvero, ha parlato più precisamente, se non ricordo male, di maggiori informazioni che riusciva a essere in grado di fornire il suo MXV e del micro dettaglio. Questo sconosciuto che però su impianti di alto livello fa un po' la differenza. A questo punto, diciamo, utilizzando le Magico come ponte, potremmo andare dall'altra parte, è la sala audio-video, che dici? E pensa alle stesse casse che facevano arpa, pianoforte, violini con delicatezza incredibile, hanno assorbito quei colpi di mortaio, sulle esplosioni, i motori, i Mac 2, della sala audio-video. Questa cosa mi ha sorpreso veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Tutto, chiaramente, pilotato dal buon Emilio, che, come dire, sta lì e orchestra le varie sessioni. Beh, ma se vogliamo dirlo, un evento ancora più grande di quello della sala audio era quello della sala di audio, non per la qualità delle macchine, ne parliamo sempre di macchine di altissima qualità, ma per il fatto che puoi rascoltare un set multicanale magico completo. A me non era mai capitato. Cioè, quel centrale l'ho trovato fantasmagomico. Io non pensavo di, vuol dire, l'ho visto sul sito, ne ha parlato forse anche il distributore, Luca ne ha parlato in qualche evento passato, ma ora non ho mai avuto occasione di sentire, perché, sai, chi fa una sala audio-video punta tutto, no, anche, so dire, col proiettore, con le macchine comunque che ci sono dietro, per amplificazioni multicanali, fino ai multicanali, che comunque ha Curus e Creller, non è che stiamo parlando di prodotti, come dire, ma no, soltitutto rispetto. E quindi vedere un set 5.1 di quella caratura là ti fa capire come... C'è ancora tanta strada che dobbiamo fare per ascoltare, fa sentire tanta roba ancora, eh, non possiamo fermarci. Guarda, lì, dunque c'era appunto questo Crell XD che erogava quasi 400 watt, perché anche in questo caso a 4 ohm, quindi erogava una quantità di energia davvero incredibile che le persone hanno percepito, perché sono state, venivano invase da questa energia, proprio fisicamente venivano colpite, la famosa botta allo stomaco, ecco, lì c'era. Ma oltre al Crell c'era questo Acurus, il modello un pochino più piccolino e che è stato anche quello che ha causato la necessità di fare una messa a punta attenta dell'ambiente, per fortuna, diciamo, cioè con questo ulteriore sistema che è sempre di Acurus, con molti microfoni, una cosa molto sofisticata e devo dire il risultato era fantastico. Però li ha fatti penare, eh? Li ha fatti penare parecchio. Li ha fatti penare perché sono arrivati fino a notte tarda, però sai, per noi appassionati sarebbe stato quasi bello, certo, per dei professionisti forse un po' meno, però è probabilmente la prima volta che mettevano a punto un set con un pre-audio video di questo genere, nel senso che erano soliti metterne a punto altri, in questo caso ci avranno un po' più di tempo, però mi sembra che il risultato sia stato eccellente, tutti quelli che erano in sale. Poi vogliamo parlare delle fonti che erano un Apple TV+, un Oppo 203, sempre il buon Oppo che salva sempre tutte le situazioni. Non morirà mai. E uno si ducca. X9 però, se non sbaglio. Lo troveremo dappertutto, l'Oppo non morirà mai, è inutile stare lì a cercare che gli sostituiscono. Non ce ne rivederemo, l'impressione. Non ce ne rivederemo, il mercato non è ancora ricco, anzi i pezzi comunque sono pregiati e ancora si usa, e il punto di domanda, io ci sarò sempre in testa, il perché con questa decisione, ma lasciamo stare. E tutto era condito con una bellissima macchina, un bellissimo proiettore, un bellissimo Dream Vision, bello, imponente, nero, scuro, come il suo, diciamo, papà sorgente che è l'NZ9 GVC, e il bellissimo terro da 130 pollici fisso sulla parete, e poi condito infine con delle bellissime poltrone, perché chi c'è stato ha visto che i più fortunati in seconda fila potevano utilizzare anche queste poltrone on cinema, e che ti posso dire che ne vale veramente la pena. Perché? Perché è un'altra cosa rispetto al divano casalingo classico, la poltrone on cinema sei veramente al cinema, e al film è di alto livello, le poltrone quelle pippe che puoi trovare in alcuni cinema sei veramente lì. Io credo che il nero profondo che ha garantito quel Dream Vision nella nota ormai scena con le stelle di Interstellar, beh, è qualcosa che forse è difficile anche vedere al cinema, considerato che i rapporti di contrasto sono diversi, ma in ogni caso è stato uno spettacolo un po' unico, quel nero lì, insomma, con quelle stelle brillanti, beh, è abbastanza complesso. Posso dirti che ho notato, oltre ad essere un discorso nero profondo, assolutamente sì, anche le esplosioni di colori, abbiamo visto le scene anche in HDR, paragonate con quelle in SDR, ecco, l'esplosione di colori, tutta la scala cromatica, era impressionante, era veramente impressionante, segno che il contrasto che GVC, e quindi ancora di più il Dream Vision, riesce a realizzare veramente sopra una spanna rispetto ai competitor, su quel mondolino che è stato fatto. Beh, credo che Emilia abbia detto che lui quasi non ha dovuto calibrarlo, forse è la prima volta in vita sua, cioè era una macchina perfetta, lui ama dire a spada. Però quasi, eh, ha detto la parola quasi, perché ha detto che comunque la sua firma lì ha dovuto metterla, la firma ha dovuto metterla. È un professionista, conferisce sempre qualcosa alla macchina, però insomma si vede che la macchina andava già molto bene. La base di partenza è molto buona, assolutamente. Adesso ci manca l'ultimo evento della giornata. Com'è andata? Che cosa hai sentito? Come ti sei, come dire, fatto a ammaliare da queste testine? Dunque, vabbè, inizierò brevemente, naturalmente, a dire che questo valse delle testine, io lo chiamerei più Ale Iacta Est. Non siamo con Cesare di fronte a Rubicone nel 49, però il fatto è che proprio lui si è inventato questo sistema, che io trovo molto gradevole, piacevole, e anche un po', crea un po' di suspense, con questi dati che lancia per, dado anzi, che lancia per terra, e con il quale scegli una delle cinque testine che ci ha voluto proporre. Si tratta più precisamente della MySonic Lab Signature Premium, della Nagra Reference MC, della Hirtai Topus 1, della Lira Atlas Lambda SL, della diotecnica AT Art 1000. Cinque testine diverse per alcuni aspetti, anzi per molti aspetti tecnici, simili per un'impostazione. Insomma, il Giappone c'entra abbastanza, come sappiamo, in questo particolare pezzo dell'impianto. Però la cosa certa è stata che abbiamo, ci siamo confermati nell'idea di quanto sia importante la testina, un po' come sono i diffusori, per altro verso. È uno di quegli elementi, insieme al preamplificatore, i diffusori che veramente fanno la differenza tonale dell'impianto. Poi, naturalmente, ogni macchina, come sappiamo, ha una sua... Anche se tutte quante cercano di interpretare in maniera più fedele possibile il contenuto dell'origine dal quale prendono il segnale, è vero che è molto difficile farlo e certe volte una impronta la danno. Ebbene, non credo di spolerare nulla dicendo che alla fine ha vinto la Nagra. La Nagra aveva tutto quello che le persone in sala, perché, attenzione, erano loro a decretare quali dovessero andare avanti e chi si dovesse fermare di queste testine. Dicevo, l'alloggiogica qui e non c'è risposta a questa domanda, è quella che si sente meglio quello che piace a noi o quello che è la registrazione da parte del... se tu vai in studio di registrazione, qualunque essi siano, c'è un'interpretazione nella registrazione anche da parte del fonico che raccoglie il suono. Ora, è quella o quella che piace a noi? Domanda senza risposta che potremmo rispondere. No, la risposta ce l'ha. Bisogna andare da Entertainment Machine. Esatto. E lì ascolti nelle varie sale i vari apparecchi. Magari puoi chiedere al buon Paolo Gerubini di metterti sulla macchina dei tuoi sogni che però non hai mai sentito con il pezzo che ti piace. Peraltro, se non ricordo male, ancora, una quindicina di giorni dal primo giorno dell'evento sarebbe rimasta lì questo materiale, no? Sì, sì. Tutto l'Ambaradan era a disposizione per i prossimi giorni, credo, uno o due o sei settimane. Non mi ricordo la data esatta ma lo scriveremo comunque nell'articolo. Guarda, credo che non debbano sfuggirci alcuni aspetti di base, il primo di quale è un fatto statistico. Roma e Interland riescono a dare diciamo spazio a circa 5 milioni di persone. È un bacino di utenza enorme ed è il bacino nel quale Paolo è abituato a notare per così dire. La persona che tu hai citato più volte se non è Luca Natali possibile? Tana. Mi era sembrato mi era sembrato che anche lui così come Paolo perché hanno delle caratteristiche in comune è un uomo capace di fare squadra cioè si è bravissimo e probabilmente non avrebbe bisogno di nessuno per fare le cose che fa però le fa in una maniera che non è così frequente vedere come atteggiamento in Italia. Paolo è la stessa cosa io credo che le due cose insieme possono funzionare e funzionare anche molto bene. Mi permetto di concludere con un episodio che forse è minimale rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora. C'erano un papà con due bambine che stavano passeggiando sul marciapiede e hanno sentito un pochino di rumore che faceva Emilio in sala audio-video e quindi li ho visti così perplessi anche le bambine guardavano il papà e mi guardavano con fare interrogativi e ho detto ma avete mai siete mai entrati in un cinema davvero con i fiocchi e i bambini no no mai mai e ho detto beh dovete entrare in questa stanza perché qui sentirete qualcosa che è molto difficile sentire normalmente. Le persone sono entrate e adesso al di là del fatto che le bambine abbiano potuto o no comprare quelle meravigliose macchine che c'erano lì dentro sono certo che rimarrà in loro il desiderio di poter avere a casa un poter ricreare in casa uno spettacolo meraviglioso come quello che si sentiva in sala cinema o meraviglioso così come si sentiva in sala audio. grazie a tutti grazie a tutti